Oggi abbiamo portato in giunta la delibera degli indirizzi dei distretti commerciali, richiamando alla legge regionale del 2020 l'articolo 11 dove permette ai comuni di poter avviare questo importantissimo procedimento, quello del commercio, dove poi successivamente ci saranno fasi di indirizzi per quanto riguarda la programmazione a ciò che potremmo fare su tutto il nostro territorio comunale. Quindi benefici per il commercio, benefici per il turismo e poi per tutta la realtà territoriale, richiamando un attimo attraverso il SUAP che sarà all'organo competente a convocare le attività delle associazioni e delle confederazioni e poi fare un tavolo di intenti per procedere nell'attività programmatica.